Il comportamento di Varsila è un atteggiamento irresponsabile e inaccettabile sia per Regione Friuli Venezia Giulia ma anche per il Governo nazionale. Da diversi mesi ci sono stati contatti fra le istituzioni italiane, le istituzioni finlandesi e la proprietà dell'azienda che hanno più volte ribadito non soltanto la volontà di mantenere gli impianti e le strutture e le produzioni presenti in Italia ma addirittura manifestavano la volontà di volerli ampliare. Non a caso hanno fatto domanda sia per progetti PNRR sia con contratti di sviluppo con il MISE. Di fatto Varsila ha mentito alle istituzioni del suo paese perché il ministro finlandese e l'ambasciata finlandese avevano più volte ribadito l'intento di voler rimanere e crescere in Italia per Varsila, ha mentito alle istituzioni italiane, ha mentito ai lavoratori di Varsila stessa. Un atteggiamento che non possiamo accettare e per questo chiediamo con fermezza che venga immediatamente ritirato il piano di dismissione produttiva nell'impianto di Trieste, si attivi un tavolo e noi siamo disponibili a farlo immediatamente con le istituzioni e con la parte sindacale e si ritorni a un percorso virtuoso di sviluppo nell'interesse dell'azienda stessa. Io ricordo le importanti relazioni che ci sono tra importantissime realtà produttive italiane e non faccio i nomi ma mi sembra molto chiaro soprattutto a chi mi riferisco e Varsila stessa. Sarebbe inaccettabile per le attività produttive italiane, per le realtà importanti italiane, continuare un rapporto con un'azienda che mente e ha mentito, con un'azienda che se continua su questa posizione risulterebbe assolutamente inaffidabile. Per questo Regione Firenze Giulia non intende fare un passo indietro, non intende arrivare a mediazioni a ribasso, vuole che venga rispettato non soltanto il fondamentale e prioritario diritto del lavoro ma anche il fondamentale e prioritaria strategia produttiva nel nostro paese che deve rimanere nel nostro paese strumenti importanti per tutto il nostro settore della navalmeccanica e non possiamo accettare che scelte unilaterali, non comunicate, non concordate, che non hanno visto coinvolte le istituzioni, siano portate avanti come se nulla fosse. Su questa posizione c'è la compattezza non soltanto delle istituzioni del territorio nazionale ma anche delle rappresentanze datoriali, penso a Confindustria e delle rappresentanze sindacali. Ci muoveremo insieme e insieme chiederemo con forza che la decisione sia superata con invece nuovi piani di investimenti e di sviluppo e nuove garanzie per i lavoratori.